E' un urlo muco, rassegnato, silenzioso. Dopo la rassegnazione non resta che urlare in silenzio. E' una città che non ha rappresentanti per quanto riguarda gli artigiani e chi opera e ha attività in città. Sai quante apre alte che abbiamo passato senza nessuna considerazione, senza nessun... Grazie a tutti.